Musica Anche il settore della pesca a Torre del Greco sembra risentire della crisi. Questa mattina con le nostre telecamere siamo stati in zona Porto per raccogliere le opinioni dei pescatori torresi. C'è un po' di crisi a livello di pesca, però siamo ancora che andiamo ancora avanti. Un settore redditizio dell'economia locale non immune ai cambiamenti degli ultimi tempi. È un po' più lenta rispetto agli altri anni, anche a livello di polipi, perché ho una barca, vado a polipi, rispetto a prima. Se vai adesso l'acqua è ancora fredda, è ciara, non ti puoi buttare al mare perché siamo quasi in mese di giugno, è ancora congelata l'acqua. Se vuoi fare anche le cozze, è un po' difficile. Il mare, secondo lei, in questo momento è pulito e favorisce una buona pesca oppure anche da questo punto di vista ci sono molti problemi? Una parte è un po' sporco rispetto agli altri anni, però si può ancora pescare. Ma ci sono degli aiuti da parte del Comune, finanziamenti? Credo di no. Secondo me possono aiutare, sperimentemente a loro. E chi deve vivere da questa attività fa fatica ad arrivare alla fine del mese, in assenza di sostegni e contributi da parte delle istituzioni. Vanno per portare la mille lire a casa. La mille lire, non l'euro. La mille lire a casa.